Salve a tutti ragazzi e benvenuti per questo nuovo video di BORDALAN2 Bene, continuiamo con le nostre missioni secondarie Ho livellato, non ne sono neanche reso conto Bene, andiamo pure ad usare un punto Vediamo se qui c'è un gettone Ah, c'è anche un gettone Dall'effetto elementale C'è un effetto elementale, insomma sì E andiamo ad usare il nostro gettono Il nostro punto abilità Che è qui Mi aumenti da 8-12 o da quello che era 8 No, proprio da 8-12 Dovevo fare presto questa, non vedo l'ora Ok, bene, andiamo pure avanti E vediamo un po' questa zona Non mi ricordo se è una zona già visitata Ma non importa, comunque andiamo Ah, una zona innevata E l'abbiamo visitata Penso sia una delle prime E qui c'è il tabellone Beh, comunque c'è il punto di scambio, ci voglio andare sicuro Così con il punto di scambio Riusciamo a Teletrasportarci direttamente nel caso Forse molto lontano Quindi sì Andiamo, una bella passeggiata nella neve E siamo a posto Beh, comunque di strada rispetto all'inizio L'abbiamo fatta tanta, eh Quanti episodi siamo? Allo 40esimo? Non mi ricordo Giù di lì comunque Eh, beh, non male, dai Non malo Forse siamo al 35esimo Non mi ricordo Comunque sia Eh, siamo belli là Ok, vediamo un po' Effettivamente sì, dobbiamo andare qua E andiamoci subito E vediamo che succede Ok, teletrasportico Wow Che posto è questo? Io non me lo ricordo mica Ci siamo venuti sicuramente Ah, sì, adesso mi ricordo vagamente No, no, scusatemi Ho sbagliato strada Ah, adesso mi ricordo Qui si usa il fucile da secchino Finalmente ritorniamo alle albori Ecco qua È un po' che non lo usavo Con il fucile da secchino Eccoci qua Qui c'è la gente congelata Vedete che se di rompo Si può fare qualcosa di interessante Oh, salve Eccolo qui Allora, vediamo se effettivamente adesso Faccio Ma insomma Non è che faccia tanto danno, eh Vediamo un po' Questo è morto però Ho avuto sfiga prima Non lo so Aspettate, scusate Ok Ok Sì, adesso decisamente va meglio Carica più velocemente È tutto meglio Vediamo un po' Prima di arrivare effettivamente al Ok 163 Questo qui va bene Vediamo un po' cosa ci Aspetta Perché qui c'era quello lì Vi ricordate? Quello L'appione Chi è che mi rompe le palle? Ok Oh, salve Certo che se si fermasse un secondo L'ho preso in piena faccia E non è morto Ok Ma quanto cazzo devo sparare? Oh, mi dispiace tanto Oh, salve Ovviamente non l'ho preso E ovviamente Mi fanno il culo adesso Vediamo un po' Oh, salve Eh, eh Oh, aspetta Non ti muovere così Oh, bellissimo Quanto mi è piaciuto questo Eh, aspetta, aspetta, aspetta Rilassati Espino un secondo Mamma mia Che cattiveria inalata To 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 Ok, preso E adesso si manca l'altro Sì, sì Non mi fai tanto Non mi fai tanto Lo struso Insomma Ma come fai a sparare così velocemente? Oh Ma mi è passato davanti Però l'ho preso lo stesso Ma porca miserica Buono Buono un attimo Non ci tocca Piedi un cazzo Mi stai facendo il balletto De qua qua Porca miserica Guardate qui Quanto cazzo si muove To Oh Alleluia Bellissimo È stato veramente Un'esplosione da panico Oh, finalmente ho preso Qualcosina di utile Non è morta in tanto Vediamo un po' Oh, soldi Oh, soldi Oh, cassa Oh, munizioni Che non mi servono Allora È qua Devo Raccogliere dei fiori Ok, raccoglierò dei fiori No, facciamo questo Togliamo di mezzo un po' di roba Va Non vorrei dopo Doverci passare E prendere le botte Ok Carichiamo E vediamo dove sono questi fiori Perché non ho idea Oh, salve No, l'ho preso malissimo Oh, stavate ho preso bene però Oh, salve Ok Eh, questa è la cosa Allora Ma porca miserica Non ci sto Oh Ecco qui Eh Oh, che bello Eh, to Vai ancora Ancora Io sono contento Se rimani lì Cioè, mi fa molto piacere Insomma, sì Ecco qua Non riesco a vedere la testa Ci sono milioni di 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 Cosi Per me si è incastrato lì Ok Ahia Dobbiamo cambiare assolutamente arma Pistola Oh Sì Questa è buona Per carità Ma non adesso La riuscirò a prendere No, non riuscirò a prenderlo Adesso ci mettiamo altri tre anni Eh, sì Ma Porca miseria Non ce l'ho L'ho tolta L'ho tolta Lo devo aver tolta Scusatemi No, è qua È la tre Perché la tre non funziona Eh, santa miseria Dove sei? To Morto Altri? To Morto È stato veramente un piacere E adesso possiamo finalmente pensare a questa cosa qua Dopo prenderemo anche la roba Perchè non mi prende? C'è una volta che non mi prende le cose Dai Eh, lo so, si è messo un po' mai Non correndo No, no, non sto correndo, vedete? Bene Sì, era proprio un duro Lock machine Vediamo cosa esce di bello Oh cazzo, mi hai fatto cacare Dicevo che c'è Ma che cattiveria Non è giusto Ero lì pronto a esultare E scendere giù dalla sedia Invece niente Eh, è un bel pezzo di merda Però insomma, bisogna dirtelo Mi hai fatto sperare per due volte di fila Le cosce, no, non mi interessa Oddio, sì Però, insomma, mi interessa anche quello dopo le cosce Insomma, esce qualcosa di buono? No Vabbè Provo l'ultima volta E poi, insomma, sì Vado a cercarti i fiori Eh, trova riviste di donne Non è che me le da queste No, riviste di queste non me le da Eh, mi tocca cercare un po' allora Penso che ammazzerò qualcuno Io, vabbè E qua Ti guardo dopo Allora, vediamo queste riviste Dove posso trovarle Pensare che io quando avevo giocato Le avevo viste queste riviste Le avevo viste queste riviste Ed erano Imboscate Infatti ho detto Guardate, vicine delle casse Erano, però non ricordo Eccole Me le ricordavo Che erano vicine delle casse Eh Poi Qui c'è qualcos'altro Queste non abbiamo visto Eh Le riviste sono due di tre Eh Altro Se me lo dicessi Con qualcosa Secondo me sono qua Non c'è niente Qui ci sono delle cose Sempre vicino alle casse Di solito sono Ok Dove cazzo saranno ragazzi? Allora Vediamo un po' Magari qua nascoste Ah, queste sennò sono quelle Qua no Io me le ricordo bene Che erano qua vicino Avevo visto e ho detto Ma che cazzo ci fanno le riviste qua Ho detto Di sì Però non ricordo più assolutamente Dove sono Non penso qua Serebbe assurdo Però ricordo bene Che erano vicino alla neve Vicino delle casse Però qui non ci sono Qua forse No Neanche qua Eh Che bella palla Di quest Vediamo un po' Se c'è qualcosa qui No, non c'è niente Vediamo qua Se c'è qualcosa Magari qui A volte Questa No, non la vado a usare per questa Questa qui E questa qui Vediamo se c'è qualcosa di buono Se qualcosina c'era Qui e qua Ok Niente Non la trovo Eppure sono abbastanza sicuro Che fossero qui Allora riproviamo a vedere qui Magari Chi è To salve To Oh che Sfiga L'ho mancato proprio Alla grande Sì ma dammi Sta cazzo di To To Oh Grande Dove è l'altro? Un fiore Ho visto un fiore ragazzi Ho visto un fiore No Non era un fiore Figura di merda Ok Sembrava una bocca di leone Qualcosa del genere Denti di leone No, una bocca di leone La bocca Non c'è Ok Ammazzato Scusatemi Ma devo trovare assolutamente Stare in vista Non ci dormo la notte Insomma Si Rivista porno? Dove cazzo sei finita? Allora Non è possibile che ce ne siano due Nello stesso punto Eh Vabbè Faccio un taglio ragazzi E vi faccio vedere dov'è Perché se no faccio notte A dopo Ecco ragazzi L'ho trovata Era in questa zona qui Qui dentro Perfetto Adesso dobbiamo andare a prendere i fiori Che sono di qua Ho fatto un giro atomico Sono andato lì dentro Sono andato un po' in giro Ho aumentato un po' di gente Ma non c'era niente Alla fine era qui per forza E tanti saluti Ok andiamo pure avanti E vediamo un po' Vedete qui L'ho ammazzato Sono entrato lì Ho detto magari sono qui dentro Invece Non c'era un cazzo di niente Vabbè Pazienza Amen Ok Dobbiamo aprire un po' tutto Ok Non c'era niente Non c'era niente E qui dobbiamo andare giù Da questi qua Adesso ho una ama più potente Spero di riuscire a uccidere Senti problemi Insomma si E questi passavano parecchio male Ok E ok Non malo E ok Perfetto Dovrebbero essere morti Eh Cerco di andare vicino Perché è inutile stare lontani Qua Ok Qua L'ho mancato alla grande Ragazzi Alla grande Eccoci qua Questo è morto Quindi vediamo Perfetto Qui è il secondo E qui è il destro Io l'ho mancato alla grande Ok Ammazzati tutti Quelli che sono venuti qua Non hanno ammazzato Eh che cazzo Pure i piselli Qui come si chiamano I pipistrelli I pipistelli Dai 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 Ok Preso Meno male Mi ero preoccupato Vai Che è andato E Vai Andai Non importa Guarda che siamo andati E vai Perfetto E vai Oh Tolti dei marroni Non ci credo Ho un po' di piazza pulita Di questa roba Che mi serve Tanta roba buona E andiamo a cercare questi fiori Va là Cos'è questo? Cadenza fuoco Eccetera Ok Questo cos'è? Non è niente Dici di far così? Oh salve Eh non me ne ero proprio corto Va bene Eh no adesso lo sto a prendere anche gli altri Dai Oh il fiore Eccolo qua Questa somiglia molto Questa è la prima volta Ok Eh l'ho sfiorato Vai Oh cavoli Questo doveva essere Che uno tosto 350 Andiamo qua Oh È meno preciso Ha una cadenza di fuoco maggiore Una velocità di carica minore Però Ha 92 Danno al secondo E 46 di... Oh Cazzarola Non so quanti Effettivamente È 4-8 Proviamola ragazzi In fondo Perché è un 4-8 Ah perché questa qui È quella Con gli scudi Eh Contro gli scudi Meglio quella che ho con le corrosioni Miro male prendi un po' tutti E stanti saluti Questa è un mitroglio Un mitroglio Un mitra 128 Ok dai Prendiamo un altro fiore Che dovrebbe essere da queste parti Se li trovo Più o meno Questo è il cactus Sto guardando Eh ragazzi Eccoli qua Questo è il secondo E vai Adesso ci deve essere Un terzo Che è qua Perfetti Con il quarto là Benissimo Mi manca solo il quinto Che speriamo che Di trovarlo in fretta E poi sono apostolo Ecco qua Prendilo Gatti Molto gentilo Il quinto Dove sarà Eccolo vedo qua Ok Gli ha fatti tutti ragazzi Bene Ottima cosa Ottima coscia Alla fine è stato più facile Prendere questi Che altro E adesso Cosa devo fare Commetto che lei Mi smetterà Di volere carne umana Non appena sentirà Quel profumo Chi è così pazzo Da fare il cannibale Quando c'è la pizza Eh infatti Cazzo c'è così buona Oh salve Molto piacere Di conoscerla Riusciremo a fare questo Sì Ce la facciamo uno L'ho mancato Ma proprio alla grande Due volte Non una volta Chi cazzo è Che mi spara da dietro Ficca miserica Stanno sparando A tutta Randa Ok Una è andata E penso sia morto Quindi era lui Che mi sparava Non è ancora morto Oh Fittico Da panico E vai Oh Fittico Però non mi ha fatto male Oh Santa miserica Ce l'abbiamo fatta Ovviamente Adesso arrivano anche questi A scassare i maroni Vai Potente Potente Porca La vacca Quanto cazzo potente sei Ho finito i munizioni Che bello Non vedevo l'ora Eh questo è piuttosto Non capisco che tipologia Di piccione sia Racciccione Infatti è molto lento Cavoli Wow mi ha dato anche l'iridio Ah mi ha fatto piacere Insomma Sì insomma Sì Eh Altra roba Ricarica grazie Altra roba da prendere Oh quanta bella roba Bella 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 Oh E adesso cariciamo anche questo Se lo trovo eh Ok Allora stavo dicendo Che mi serviva qualcosa Che era qui La pizza Manca della pizza Cibo Dove cavolo Non è che si è messo lì davanti No Pizza Dove sei Esattamente Quanta Cazzo di pizza Devo trovare Perché io non la vedo Allora vediamo qua Se devo salire qui sopra Se vedete di quella Ecco qua Eh infatti Immaginavo Altra qua E manca una Che è là sopra Che l'ha trovata Come ci arrivo Forse di sopra Non lo so eh Ci provo Perché questa È molto strana Questa Devo ammetterlo Ci ho provato Non me l'ha fatto prendere Non l'ha inquadrata proprio Allora vediamo un po' Non me l'ha fatto prendere Come ci arrivo esattamente qui sopra Un consiglio Da sopra magari Non so se effettivamente si possa salire Ci provo eh Intanto cosa c'è da perdere Insomma sì Ok Eh no Di qua Quindi si va Dai va bene Non è una cosa difficile Alla fine Dai Si fa Se mi fai salire Gentilissimo eh Se capisco dov'è Ok Devo cercare di cadere Perfettamente Qua Ok ce l'ho fatto Eh sì In effetti Non è che sia Parolino Ok Devo andare di là Quindi va bene Scendiamo Quindi Niente Ho finito ancora questo Devo Annulla Il lavaggio del cervello Di Lenny Proviamo È il punto di scambio Per caso Perché sì Infatti qui mi sembra strano Che debba farla Secondo me devo proprio uscire Mi fai andare Grazie Molto gentile Sì Dovrei uscire Ok Dovrei Spero Non lo so Esattamente Dove devo andare Qua dentro Eh che cavolo Devo fare il giro Come al solito Ho sbagliato strada Io sbaglio sempre strada Ecco qua Saliamo Oh guardate È questa Quindi ce n'erano più di una Ah capisco Ecco qua Della pizza Sei così Gentile A portarmi Questi regali Forse Ho sbagliato A unirmi Ai tunnel Rat Brava ragazza Sapevo che Saresti tornata da me Prima o poi Era Scooter Perché Pensi che sia Scappata qui Era l'unico posto In cui Scooter Non mi avrebbe seguita Con le sue Stupide Avance Vabbè Se ti manda Scooter Devi morire Vabbè Grazie 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 Proprio me lo aspettavo Sta cosa Che pesto di merda E tu faccia vedere l'avance Un mostro del genere Ti diavolo sono Quei piccoletti Infatti 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 Eh sì Ok Mi sono preso un colpo Ragazzi Scusatemi Ma non me lo aspettavo Proprio Una cosa del genere Chi è Che rompe le balle Tom Aspettate Odia questo Che cavolo Insomma Non mi fate mai parlare Ok Io penso di aver fatto tutto Ho fatto un macello Ho fatto un vero macello Però comunque Mi ha aperto una porta Che mi porta in una zona nuova Vediamo un po' Chiamiamo arma Perché qui c'ho poche munizioni Scusate Ecco Mi sono fatto Tutto male Ok Oh che bello Castello Valcone di rondello Allora Vediamo di andare Prima qua Oh vai vai Tutte cose Gradite Ok Salve Lei non la potrei notare così Eh Scusate Un po' rotto Allora Cerchiamo di fare cose Ma che cazzo Ti fai qua Che vi sto facendo La mia La mia giocata Con calma Allora Vediamo un po' Cosa c'è qui Oh Beh sì Non male insomma Oh Lagata da panico Ok Vediamo un po' Se trova qualcosa di meglio Ma col cazzo 325 Oddio Danno da corrisione 100 Ah Dispetto 80 Fa molto più danno da corrisione Probabilità 30 Ma più o meno come la mia Dimensione Ah Direi che ha vinto Sperando che non è quello da 3 No Perfetto Ragazzi una figata Fa poco Meno danno Però fa più danno da corrisione Più probabilità che lo faccia E quindi sì Questo cos'è Una pistolina Va bene Va bene lo stesso E dai Non dico di essere soddisfattissimo Sicuramente Una cosa molto positiva Oddio Come cazzo Figgio Di sopra lui Ok Vediamo adesso Mi prendo Mi prendi Sì infatti E poi soprattutto Senza prendere la mira È molto meglio Oh Salve Oh Salve Spara molto meglio Quest'arma Oh Gliel'ho presa in faccia Però Con queste tutte stestelline Io non ci capisco un cazzo Ok Ok Non ci sto capendo una mazza Comunque c'è un caricatore Che è una figata Sì ma cazzo Fermatemi un secondo Ci sto capendo una mazza Fermatemi un secondo Ok Uno preso Uno preso Eh adesso Mi faccio usare Quest'arma Qui per porta Eh vabbè Un attimo di pazienza Mi state L'incoglionandico Eh Eh Ho tirato un po' in aria Ok Dovrebbe essere morto Anch'io eh Però Sì Anche lui Eh sono forti Sono decisamente Forti E sono decisamente Tanti Non è che siano forti Perché sono forti Perché sono tanti Questo è andato Questo È quasi andato Mamma mia Mi hai fatto malissimo Ok Adesso Lo mazziamo Un attimo solo Ok Andata che questa Mamma mia Tremendi eh No no Tirite la granata Non la voglio Grazie Mettiamo un attimo E vai Cioè vai il cazzo Ho fatto una Sì ma siete troppo veloci To Ok Eh cavoli Sono pieno di inventario Wow Questa qui è bella eh Ok Posso andare tranquillo Pacifico tranquillo No eh Non sarà mai possibile Mamma mia Mi sono veramente Spaventato Adi mi tocca far così To Muori To Muori il cazzo Sì siete troppo veloci Avete una furia esagerata Ok vediamo cosa c'è qui Beh qualcosa di interessante Qua qualcosa di interessante Eh non volevo fare con questo Avere la riporta Ok Adesso Nient'altro Ho fatto tutto Ma qui perché sono venuto Soprattutto Era per sapere Mi ha fatto venire Fino a qui per Non si sa Ok Ok Anche qui cosa c'è Oh salve Altra gente To Eccolo qua Vediamo un po' di ammazzarli Perché insomma si Ok questo è morto No non è morto Però non mi importa To Cazzo ma sei forte Donna santa Ma si sono ammazzati Da soli Cioè il fuoco amico C'è qui vero Vero Ok E vai Oh Cosa che la dita Mamma mia Quanti sono Vai Due con un colpo solo Sì Non l'ho ucciso Però insomma Sì Vai E vai Oh non l'ho ucciso Ho preso il braccio Oh salve Vai E mi ha massacrato Però dovrei riuscire A ammazzarlo lo stesso Tac E Scusate Mai è morto Ok È morto Tac Ok E Tac Ok Cazzo ma sei forte Te l'ha detto mai nessuno E tac Oh Mamma mia È veramente tosta St'aria Madonna quanta roba c'era C'è un altro Ciao Porca miseria Aspetta che devo ricaricare Aspetta che devo ricaricare Aia Eccolo qua No Che bastardo Oh Meno male che 300 Non mi ricordo quanto faceva il mio 320 qualcosa Questa fa fuoco Cazzo ma Che fuoco fa Allora È ora di cominciare a togliere questa da fuoco Che non mi ricordo dove era L'avevo segnalata con un coso C'era una da fuoco che l'avevo segnalata Questa Questa Che era 310 Ah 310 41 60 E qualcosa Eh Questa fa di meno Però accidenti È meglio Ma se noi facessimo una cosa del tipo Allora Questa qua Che fuoco la tolgo E Magari questa qua 312 Cosa fa questa mitra Facciamo questa E la togliamo E mettiamo questa Che Ma che cazzo Avevo più di roba di quello che potevo portare Probabilmente di missione Eh Vai Ah questa poi Ce la doppia Ok Così ho eliminato due cose dal inventario E prendo questa Perfettico Scusatemi ma devo fare delle prove 4005 Mamma mia che bazooka da panico Ok E questa qui È bellissima Guardate qui che roba Mille No l'ho presa perché costava tanto Un bazooka da 2500 Dopo quello che abbiamo trovato da 4000 pass Non la guardo neanche insomma Ok Eh Sono venuto fino a qua Non ho ancora capito perché Però insomma Piacevole E Quindi Di qua Una zona nuova Ok Eh Scusa Ho dovuto farlo Eccolo qua Devo fare anche questo Eh Adesso che io Ho tempo È un'altra cosa To To Eh To Eh miseria Non riesco a prenderti Ti muovi troppo velocemente Porca miseria Figliolo mio Ah mi pazienta Mamma mia Cattiveria Oh Cagli No E guardate Sembra facile Ma si muovono troppo Non riesco a prenderlo Incredibile Porca vacca Va bene No questa no ti prego Bene mi fa tanto piacere To Non l'ho fatto un cazzo Ok l'ho ucciso Questo non era morto Vai Ok Molto che è questo Vai Non l'ho morto Non l'ho moruto E questo è morto Che vomito che hai fatto Accidenti a te Allora io sto venendo qui perché Perché ho scoperto qualcosa Una zona nuova che mi dovrebbe essere parecchio bella Ok mi apre E mi ha salvato Prendiamo perché serve Questa zona Salve Non volevo venire a disturbare Me ne vado via No me ne vado via ragazzi Perché tanto non mi serve venire qua per adesso E me ne vado Tanto non so neanche perché sono venuto Una strada troppo brutta E me ne tolgo indietro Tanto la questa l'ho finita La vado a consegnare Tanto qua sicuramente ci sono delle queste che dovremmo fare Dai Non stiamo Poi sono pieno di inventario Cioè È tutto un Lascia qui Lascia lì E non Mi scoccia Insomma sì Ok Andiamo pure Tanto comunque Abbiamo fatto delle stragi Massoniche proprio Bossa non le abbiamo incontrate Quindi dai va bene E anche perché L'episodio sta venendo lunghissimo Dopo non avrebbe senso Allora devo andare di qua Andiamo Consegniamo E tanti saluti a Pifero Ok Vai così Questa zona l'abbiamo vista solo una volta E non l'abbiamo Approfondita Perché erano tutte le strade Erano chiuse Quindi sì Insomma È così Ok Vediamo È stato una Molto interessante Insomma sì Allora Andiamo via questa Mettiamo via questa Mettiamo via questa 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 la mandiamo via Dai tanto non serve più Questa 300 Era quella che volevo mettere nei preferiti Va bene Questa la mettiamo via Mettiamo via Mettiamo via 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 Questa qui Fuoco Avete detto che la togliamo Questa qui così Questa Era bella Però avevamo detto che era tolta Per quel motivo lì Perché effettivamente E poi comunque abbiamo trovato di meglio Quindi sì Insomma Ciao Ok Questa pistola Non mi interessa Perché era troppo lenta Quindi Andiamo via Andiamo via Vediamo via Vediamo via Vediamo via tutto Vai Che prima o poi qualcosa di buono La troviamo Non vi preoccupate Questa via Questa via Questa via Questa via 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 Scudo via Via anche questo Via anche questo 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 Però ne avevamo di roba Non è mica poco Va bene ragazzi Siamo al travel Andiamo pure a A consegnare E poi ci salutiamo E come al solito Ho fatto un altro video di 30 minuti Va bene Patienza Ok Siamo a Sanctuary Siamo arrivati a 23 A 25 Ricordiamoci che Dove abbiamo Fino un altro Di quei cesti E così vediamo cosa c'è Speriamo di qualcosa Che non sia un scudo Come al solito Eh che cavoli Vabbè Vediamo un po' Devo consegnare Devo andare al bar Dove devo andare esattamente Non ho capito Ah da scooter Ecco Adesso mi ricordo Da scooter Che si entra da qua Ecco qui scooter È stata una Lunga quest Ecco Tu hai mangiato Quello là Mi mancava tanto così Per scoprire Come andarci giù Pesante E anche scoprire Che cosa vuol dire Questo è scemo proprio Vabbè Tu scooter Hai fatto una brutta cosa Però insomma si Devo prendere Di qua Se mi fai andare Questo Ok Fatto Bene ragazzi Dai Diciamo che ci fermiamo qua Per questo video è tutto Nel prossimo video faremo Altre missioni secondarie Per poi fare quella primaria Spero in fretta Perché qui ogni volta Dico Facciamo facciamo Poi ci sono 50 milioni di quest Come vedete Ci sono sempre di più E non riesco a fare quella primaria Comunque ragazzi Mi invito come al solito A lasciare un like Un commento Se vi piace la serie E fammi appunto Sapere cosa ne pensate E per adesso vi do Saluto la sciva Ciao 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 Grazie a tutti.